C'è una Palermo anche in Argentina e non è un posto qualsiasi Con 15,6 km quadrati si tratta del quartiere più esteso di tutta Buenos Aires Riuscite ad immaginare perché si chiama Palermo come una delle città più belle della Sicilia? Io lo so, io lo so, per i tanti immigrati italiani arrivati in Argentina nel XIX e XX secolo No, non sono stati loro, anche io lo pensavo Pare che l'origine del nome sia molto più antica Risale ai primi tempi della colonia spagnola nell'attuale Argentina E dovrebbe derivare dall'abbazia francescana di San Benedetto da Palermo Compatrono di Palermo con Santa Rosalia C'è un'altra storia popolare alternativa dietro al nome di Palermo Argentina La terra sarebbe stata originariamente acquistata da un immigrato italiano di nome Juan Domingo Palermo Alla fine del XVI secolo, poco dopo la fondazione di Buenos Aires nel 1580 Se pensate che Palermo sia solo in Sicilia vi sbagliate, infatti